Sul sito www.balairat.it si legge lavoro no all'invasione del frontalierato e sicurezza no alla delinquenza d'importazione mentre sul sito Ticino Online nella sezione News Ticino Cronaca si legge i ratti invadono la Svizzera italiana. In canton Ticino è partita una campagna shock antifrontalieri che è iniziata sul social network Facebook con le immagini di tre topi che rappresentano un piastrellista italiano, un poco raccomandabile ladro romeno e il ministro Giulio Tremonti ha anche portato alla fissione di manifesti in Svizzera. La campagna pubblicitaria, lanciata da uno studio locarnese con un chiaro invito alla derattizzazione mette nel mirino come esempio di ratti sgraditi tre categorie i frontalieri, gli stranieri che delinquono e il ministro dell'economia italiano. Dietro questa campagna, secondo Claudio Pozzetti, segretario nazionale dei lavoratori frontalieri della CGL ci sarebbe la longa manus di Giuliano Bignasca, leader della Lega dei Ticinesi che risponderebbe agli attacchi alla Svizzera e al suo sistema bancario con ritorsioni nei confronti di chi va a lavorare lì. La campagna sarebbe solo il seguito di tutta una serie di altre iniziative.